Carmen Di Pietro. Sexy subretti ieri e oggi 8 g passato p di un mese dall'uscita dalla casa del GF VIP di Carmen Di Pietro e ora la showgirl fa una rivelazione esclusiva. Intervistata dal settimanale Spy, l'ex concorrente del GF ha confessato di aver avuto una relazione con Diego Armando Maradona. Ho avuto una storia con Maradona. Non l'ho mai detto. Per non fare scoppiare un casino. Era l'inizio degli anni 90 con Diego ci siamo frequentati per un anno e mezzo. Cos Carmen Di Pietro racconta in esclusiva al settimanale Spy della sua storia clandestina con Maradona. Una sera, continua l'ex concorrente del GF in cui ero andata a trovarlo a Napoli. Stavo facendo il bagno in un hotel vicino alla stazione. Lui è arrivato in anticipo. Io ero ancora nella vasca. Cos ho indossato un accappatoio e sono andata alla porta. Gli ho aperto che ero ancora tutta bagnata. Posso continuare a lavarti io? Apice. Mi ha detto. Cos siamo tornati nella vasca. È ancora. Una volta per me Maradona ha scappato dal ritiro dicendo che un suo parente stava male. Certo che sto rischiando mi disse lo sto facendo per te. Allora ero spensierata. Libera e lui era un idolo. Ero innamoratissima. Ma non che pensassi al matrimonio. Ero cose giovane. Facevo i primi provini come modella. Era l'epoca in cui dormivo sui treni. Figurati se pensavo a chiamare i fotografi. Altro su MSN. Arriva in tv il reality delle mogli degli sportivi famosi. La nostra vita tra l'amore e la spesa. Corriere TV. Sponsorizzato. Black Friday. Bando l'XBO X1 S 500 GB a soli 184. Pochi pezzi disponibili. Acquista subito.